a tutti amici sono emiliano babilonia purtroppo questa mattina i servizi segreti degli esterni del sti behind gladio p2 delle forze armate italiane perché ovviamente sono servizi segreti dell'interforce che operano attraverso i sistemi satellitari delle altre ecologie oggi giovedì 24 dicembre mi stanno già alzando le frequenze dell'ustione sul corpo e mi stanno immettendo all'interno del cervello lavaggi del cervello continui in realtà mi stanno dicendo tutte le indagini che stanno effettuando nelle aree geografiche dove io staziono attraverso intercettazioni ambientali e attraverso tracciature pedinamento triconometrico in gps che questi vedono attraverso i sistemi di spionaggio che utilizzano all'interno delle centrali operative i sistemi di spionaggio che vengono utilizzate sulle quali cariche della polizia che fanno il proprio dovere cioè praticamente questi servizi segreti stanno spiando la digos stanno spiando l'antiterroresmo stanno spiando l'antimafia della polizia e mi dicono tutte le indagini perché si vede che vogliono far credere alla polizia che solo con questi sistemi di eliminazione del testimone attraverso i lavaggi del cervello e torture o attraverso manipolazioni cerebrali per costringere testimoni innocenti che vogliono risolvere i problemi delle altre tecnologie ma che in realtà hanno scoperto che l'interforce la quarta forza armata i servizi segreti esterni manipolano queste frequenze in testa a queste persone per farli entrare in una sorta di narcolessia indotta e dipendenza forzata e psicosi celebrale clonata prendono persone malate di bipolarismo prendono persone malate di cambio di personalità prendono persone malate di schizofrenia effettuano una mappatura cerebrale attraverso un elettroencefalografo transcranico una volta effettuato questo riprendono le stesse frequenze di queste persone malate le immettono su persone sane attraverso frequenze indotte sparate nei centri nervosi del cervello dall'arma d'energia diretta che collega i centri nervosi del cervello i centri nervosi del midollo osseo i centri nervosi del cordone cerebrale ovviamente il cordone cerebrale è quello che auto apprende dai sistemi di manipolazione distorta cerebrale attraverso frequenze del dolore immettono le frequenze del dolore per fare entrare in lobotomia il cervello e poi sbloccano alcune parti del cervello stesso e immettono le frequenze clonate attraverso la mappatura distorta e le persone hanno gravissime patologie in questo momento i servizi segreti mi stanno vedendo dentro casa con le telecamere a scansione sintetica mi stanno parlando in testa in tempo reale e mi dicono che sono le stesse identiche frequenze che vedono tutti i latitanti che vengono poi coperti da questi servizi segreti chiamati servizi segreti ex gladio xp2 xstbi servizi che di grandestini e quindi la polizia non può poi andare ad arrestare questi latitanti perché vengono avvisati in comunicazione telepatica o in neural voip e questi latitanti si spostano dalle varie zone un giorno sentì un'intervista del procuratore generale antimafia di palermo che diceva ma come fanno questi latitanti a capire quando noi stiamo per arrivare a fare le perquisizioni e come fanno a sapere che quel giorno esatto noi stiamo per intervenire qualcuno dall'alto gli avvisa ecco come fanno con i satelliti spia gli chiamano in comunicazione telepatica gli mettono dei messaggi a frequenze di luce a sovrapposizione corneale immagini indotte sovrapposizioni dirette con azioni dei telefoni col sistema tetra in comunicazione criptata in chiamata di servizio che non passa attraverso i centralini normali ma viene collegato il telefono attraverso un collegamento satellitare criptato e che l'antimafia non può né vedere e né sentire perché ovviamente questi sistemi lavorano 4000 volte più veloci della telepatica artificiale e questi sistemi ce l'hanno solo l'intelligence i servizi segreti clandestini cioè rex gladio xp2 xpim e le forze armate quindi la polizia che è onesta che ha i semplici sistemi di investigazione non può arrivare a queste tecnologie perché ovviamente non gliele danno le danno solo alle forze armate le danno solo ai servizi segreti intelligenze deviati e corrotti e questi servizi segreti intelligenze deviati e corrotti sarebbero quelli che fanno entrare tonnellate di cocaina ed eroina in italia sarebbero quelli che fanno che fanno uscire dall'italia armi di distruzione di massa che vengono vendute a terroristi sarebbero quelli che fanno contrabbando di armamenti militari armi di ogni genere che vengono dismessi dalle forze armate dall'esercito italiani ultimamente stanno dismettendo delle navi da guerra che dicono che sono obsolete poi magari ce le troviamo in siria in libia o in altri posti e questi qui ovviamente poi si trovano con una un inter force di navi di smesse ma che negli altri stati funzionano perfettamente guarda che strano come i nuovi caccia che deve comprare per forza lo stato italiano gli f35 e che smetteranno tutti i vecchi caccia che poi ce li troviamo in libia in siria l'isis ce lo troviamo sui caccia italiani che gira per i deserti e nessuno poi dice niente dice oddio ma chi gliel'ha venduti questi caccia oddio ma chi gliel'ha venduti questi caramari oddio chi gliel'ha venduti le pistole beretta i fucili i fucili beretta le che non si sa e non si sa però renzi disse dobbiamo combattere i contrabbandieri di armi che vengono date a questi terroristi ovviamente renzi si deve guardare allo specchio e ripetere questa cosa lo deve ripetere anche il presidente della repubblica napolitano lo deve ripetere davanti al comandante generale dell'arma di carabinieri della polizia della fidanza dell'esercito la medina dell'aerolautica perché abbiamo capito bene che lo stato italiano è il primo colpevole di questi attentati il primo colpevole di questi terroristi il primo colpevole di questi narcotrafficanti che portano tonnellate e tonnellate di cocaina ed eroina quando i radar geoscanner satellitari mi vedevano le vitarelle che c'avevo in tasca e non vedono tonnellate tonnellate container di cocaina ed eroina che entrano in italia tanto ormai il gioco è fatto perché i servizi segreti deviati la cocaina la fanno entrare i primi giorni di novembre poi distribuiscono queste sostanze stupefacenti in tutta italia e a dicembre inizia la vendita la vendita in all'ingrosso di queste sostanze ma questi narcotrafficanti non vengono mai arrestati non vengono mai pedinati non vengono mai fatte perquisizioni perché ovviamente vengono coperti queste dell'irispia ecco perché ci stanno 50 anni della dita amsa ecco perché non riescono a trovare queste persone che muovono capitali di centinaia di miliardi a destra e sinistra e nessuno sa accorgere niente le banche falliscono nessuno sa accorgere niente e te credo perché sono questi dell'interforce dei servizi segreti esterni loro che fanno i reati e qui nessuno dice niente perché dicono la polnesta polizia deve operare attraverso le reti digitali fatali dall'arma di carabinieri alla rete digitale e tutte le forze dell'ordine in italia si devono collegare alla rete digitale dell'arma di carabinieri ma guardate che strano io ho letto la storia della p2 dell'astri behind e del gladio tutti i più alti ufficiali dell'arma erano implicati in queste in queste bande armate terroristiche coperte dai mafiosi militari e però nessuno dice niente sentito bene se vuoi la copertura la latitanza e vuoi praticamente essere un narcotrafficante mafioso in italia devi fare solamente una cosa vai ai parioli ti metti d'accordo con questi altri ufficiali a tavolino e dal giorno dopo puoi ammazzare la gente per strada puoi fare attentati ti può mettere a vendere tonnellate di cocaina e di roina ti può mettere a vendere armi nuclear tanto il 50% se lo prendono gli ufficiali l'altro 50% sovvenzionano la criminalità organizzata in italia inutile che l'antimafia si metta a fare indagini inutile che vanno a fare i pedinamenti che vanno a fare le intercettazioni telefoniche tanto non è che ai mafiosi latitanti che parlano col telefono gli parlano in comunicazione telepatica e nessuno può registrare le eliminate comunicazioni perché i giudici magistrati non devono sapere come vengono avvisati latità è fatta apposta è creata apposta la tecnologia no pensate che la tecnologia esce dal 1970 in italia veniva utilizzato già da cavia umana con attestazione con l'auto di frequenze indotte attraverso la manipolazione celebrale adesso in che anno siamo e ancora insistono a fare questi giochetti perché essendo un testimone diretto di questi esperimenti che vengono effettuati sui figli dei carabinieri poliziotti e finanzieri loro non vogliono che vada a testimoniare che vada a portare le denunce relativi a questi reati perché questo sarebbe un grosso crimine di stato un grosso crimine contro l'umanità un grosso crimine che viene effettuato sui figli dei carabinieri poliziotti e finanzieri e tutti stanno zitti molte vittime del controllo neurale molte persone che hanno gravissimi disturbi e vengono attaccati con le armi ad energie dirette sono figli di militari dell'esercito della marina dell'aeronautica figli di magistrati figli di giudici figli di persone militari carabinieri polizia e finanza ma nessuno dice niente tutti dicono non è possibile questa tecnologia non esiste questa tecnologia non esiste non avete capito che quando dite questa tecnologia non esiste state all'interno di un sistema matrix che opera per il controllo della mente a distanza e che induce le persone a ragionare in un modo errato per deviare la reale tecnologia che viene utilizzata è per questo che fanno credere che noi siamo dei pazzi dei schizofrenici dei malati di mente vediamo tutto complotto da tutte le parti non è che noi vediamo è la realtà dei fatti su questa parete storta e ognuno che passa dice ah noi la vediamo dritta ma loro hanno una distorsione della realtà è inutile che ti spieghi a queste persone guardate che la parete è storta ma io l'ho provato con la livella la livella mi dice che è storta la parete chiunque arriverà là davanti senza strumentazione senza niente dirà no 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 è dritta questa parete e questo è il loro scopo far perdere la credibilità dei testimoni far perdere la credibilità delle cave umane e farle sembrare di pazzi le schizofrenici di malati di mente fate solo una piccola riflessione perché tutti i collaboratori di giustizia tutti i pentiti e tutte le persone che hanno collaborato con lo stato perché se sono la maggior parte tutti i suicidati sono tutti morti fate una riflessione su questo che dico andate a vedere la storia come i più grossi processi di mafia i più grossi processi di stato trattato stato mafia trattato forze dell'ordine forze militari con organizzazioni criminali organizzazioni terroristiche tutte le persone che hanno cercato di bloccare queste organizzazioni sono tutte morte si sono suicidate gravi incidenti stradali eschemie cerebrali trombosi infarti neurismi ma com'è possibile si sono suicidati addirittura si sono piccati ai termosifoni si sono impiccati hanno aperto la porta della macchina si sono buttati dai punti non avete pensato a questa cosa chi è che in italia si ricorda del mega blackout che c'è stato quando si è spenta tutta la nazione tutti hanno detto ah si è staccato il cavo perché praticamente un albero è cascato sulla linea elettrica ma secondo voi la nazione italiana non ha previsto che se si stacca una linea elettrica non ci siano delle linee supplementari per dare corrente a una nazione stessa non avete capito che quello era l'esperimento militare quelli stavano sperimentando una tecnologia che immette radiofrequenza all'interno della rete elettrica nazionale con impulsi elettromagnetici che penetrano il cervello attraverso infrasuoni attraverso modulazioni di frequenze a campi elettromagnetici per vedere se noi ci risvegliamo dall'ipnosi indotta dai sistemi narcoletici in rete neurale la gente non capisce questo perché l'incompetenza di determinate persone l'ignoranza di molti altri e la manipolazione celebrale deviano la reale situazione nazionale italiana il reale attacco che avviene attraverso un colpo di stato neurale e deviano totalmente tutte le reali indagini per coprire queste persone per coprirle attitanti per coprire i terroristi e tutto questo attraverso i servizi segreti clandestini che non li trovi all'interno del coordinamento nazionale dell'antimafia questi te li trovi all'interno di un appartamento fantasma o di un cano un tir magari occultato che magari adesso stanno sull'autostrada in un autogrill e dentro l'autogrill stanno preparando la manipolazione celebrale dei manchurian candidati presunti terroristi che vengono pilotati a fare il nuovo attentato così funziona il sistema ma che vi pensate che gli onorati falcone borsellino hanno attivato le bombe se sono messi là vicino col telecomandino e hanno attivato le bombe vi pensate voi questo ma se l'ho capito io che sono un semplice elettricista ho capito che sono state attivate da schede d'acquisizione con comandi a distanza all'innesco di impulso satellitare ma se l'ho capito io questa cosa possibile l'antimafia non l'ha capito possibile che la dico se non l'ha capito possibile forse l'ordine italiane non hanno capito che sono stati attivati coi sistemi satellitari ste bombe nessuno ha capito questo un saluto a tutti amici di emiliano babilonia cavia umana da 5500 giorni oggi è 24 dicembre 2015 grazie a tutti